Comandante Maggitti, è un'estate drammatica per gli incidenti stradali, soprattutto per gli incidenti occorsi a motociclisti. L'ultimo ferimento grave è due giorni fa. Perché secondo lei questa recrudescenza di incidenti? Purtroppo il motivo di base è sempre quello, l'alta velocità, quindi lo sprezzo del pericolo e la mancanza di rispetto delle regole. Ovviamente chi ha moto, soprattutto moto di grossa cilindrata, è proprio portato con questo caldo anche a pigiare maggiormente sull'acceleratore. Ricordiamoci che la moto non è mai un mezzo che dà la sicurezza di un veicolo, di una macchina, addirittura di un camion. Ovviamente l'alta velocità, la base originaria, spesso unita forse al sonno, piuttosto che anche al fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Quindi unito al fatto di una maggiore presenza sulle strade anche nelle ore notturne, favorita soprattutto adesso da questo caldo, dalle ferie e d'altro. E' un cocktail pericolosissimo che porta ad avere questi gravissimi incidenti sulle nostre strade. Comandante, avete tanti uomini in strada, ci sono autovelox, tutto quello che c'è da fare, però è chiaro che nel periodo estivo, diceva giustamente lei, il traffico veicolare anche delle due ruote aumenta in maniera sensibile. Sì, Pescara poi soprattutto diventa un'altra città come popolazione, un'ulteriore città come popolazione durante l'estate, sia durante il giorno sulla riviera, sia durante la sera dappertutto. L'ultimo incidente mortale che abbiamo avuto addirittura si è verificato ai colli, quindi dalle parti del cimitero, su una strada in cui di base non occorrerebbe fare vigilanza proprio perché deserta è spopolata a quell'ora. Ma proprio questo è il problema, le strade in cui minore è il traffico, maggiore è la tentazione di accelerare, di andare veloci e questo può comportare grosse problematiche. Un invito in ogni caso a tutti alla prudenza e al rispetto delle regole. Purtroppo una qualsiasi distrazione può essere fatale e non più rimediabile e per questo dobbiamo di base sapere che l'errore è sempre in agguato e dobbiamo stare attentissimi alla guida di qualsiasi veicolo.